salve carissimi amici tutubi sono francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se la prima volta che venite a visitarla cosa c'è di più bello di una testata che ci parla di letteratura con eventuali approfondimenti ecco per l'appunto una testata che magari degli approfondimenti ce li ha parliamo quest'oggi di orgoglio e pregiudizio disney deluxe edition storia di teresa radice per i disegni di stefano turconi una copertina che mi aveva lasciato un po perplesso l'avevo già detto in passato perché sembra essere un quadro soprattutto per alcune pastosità dei personaggi dell'ambientazione quant'altro lo stai vedendo ed effettivamente stefano turconi nell'editoriale finale ci dice che era quello l'effetto che voleva dare quindi per quanto non mi convinca al cento per cento è una copertina riuscita per gli effetti che si voleva dare il volume non si presenta con particolari extra oltre alle due pagine dove è possibile leggere qualcosa sul come è stato concepita la copertina per l'appunto ci si limita ad una introduzione ad opera di stefano petruccelli se non ricordo male sì che però ci dice giusto due parole sulla storia sulla paperizzazione dei personaggi e basta non ci dice assolutamente nulla sull'opera originale o di orgoglio e pregiudizio a intervallare le tre parti anzi tre parti e mezzo del volume ci sono delle vignette poi presenti alcune di queste in scena con tanto di prove colore quindi vignette non definitive ma fin troppo poco mio parere per giustificare l'acquisto in questo formato qui piuttosto che sul solo topolino di una storia che mi è piaciuto abbastanza non ho letto il romanzo originale di jane austin quindi non saprei dirvi al cento per cento quanto questa vicenda amorosa tra in questo caso elisabeth pennete da chi non mi ricordo mai i cognomi mannaggia me comunque tra questa versione di paperina e questo paperino sia assolutamente fedele a orgoglio e pregiudizio sicuramente alcune cose sono state edulcorate visto il non particolarmente nutrito cast di personaggi femminili per andare a coprire la famiglia pennet che potete vedere qui sul retro di copertina essere composto dalla nonna papera con la zia brigitta le due sorelle maggiore paperina e che in questo caso elisabeth e jane che paperetta ie ie e le tre elie e me devi che fungono da sorelline minori e una delle quali c'ha una dote che presumo si dovesse sposare con qualcuno qui diventata la capacità aveva una ricetta molto particolare per la cucina per un contesto culinario mi ha lasciato un po perplesso anche perché si parla proprio di dote in maniera proprio esplicita quindi presumo che la dote di questo personaggio fosse particolarmente importante ai fini della trama tant'è che è stata rielaborata pur mantenendo il termine dote cosa piuttosto carina è che vediamo in controluce l'autrice con sua amica che parlano e l'autrice che spiega un po qual è la sua idea di questo romanzo quindi gli sta raccontando orgoglio e pregiudizio e noi assistiamo anche ai vari batti becchi tra questi due personaggi mentre parlano provano a discutere però sembrano due comari cioè è molto strana questo inserimento un po peculiare per il topolino divertente però è abbastanza riuscito non so se voleva essere solo una presa in giro o se in maniera anche piuttosto buonaria però è abbastanza riuscita la storia prevede tutto un lungo processo di avvicinamento di corteggiamento se vogliamo tra le parti tra la paperina che avete visto in copertina e questo paperino dove però l'orgoglio di entrambi i personaggi li spinge a stare lontani e per giudizi che hanno l'uno nel confronto dell'altro li spinge almeno inizialmente proprio a stare lontani separarsi quasi non volersi conoscere ma pian piano venendo a conoscere di certi elementi la nostra elisabeth la nostra paperina scoprirà cose scoprirà dettagli che gli vanno a limare un po quella faccia orgogliosa di paperino ma allo stesso tempo andrà a scavare nei pregiudizi che lei aveva su di lui e mi è piaciuto cioè credo che fosse proprio il cuore ovviamente del romanzo di jane austin che non ho letto però la rappresentazione in versione fumetti è molto molto carina molto molto piacevole molto godibile un buon insegnamento se vogliamo di non lasciarsi guidare dalle apparenze quindi non lasciarsi al proprio pregiudizio ma allo stesso tempo non far sì che l'orgoglio ci proibisca di essere davvero chi siamo a non mostrare la nostra vera faccia solo per salvare le apparenze dove però a quel punto subentra il pregiudizio degli altri visivamente parlando abbiamo stepano turconi che fa comunque dei bei lavori grafici anche se l'ho trovato un po diverso dal solito probabilmente per dare questo da questo aspetto un pochettino più pittorico un po più da 800 alcune linee non sono ben definite però sembra più proprio una scelta stilistica l'unica cosa che ho trovato fastidiosa se vogliamo è in un certo quadro di famiglia non ricordo bene dove dove elemi devi hanno solamente punti negli occhi non hanno l'occhio intero quindi mentre gli altri personaggi si quindi boh o è venuto mancare il dettaglio degli occhi tondi però parliamo di qualche dettaglio in quella che non va ad inficiare su secondo me la capacità artistica del disegnatore il prezzo di copertina è di 16 euro grande formato che valorizza quindi disegni di stefano turconi e se siete fan potrebbe valere la pena recuperarlo in questo ampio formato in alternativa si può sempre recuperare i topolini originali questo perché perché vi ho detto che sono tre sono quattro puntate ma in realtà le ultime due che infatti sono terzo episodio prima e seconda parte erano usciti sullo stesso topolino quindi si tratterebbe di tre topolini quindi con 9 euro recuperereste questa storia e altre non ricordo nel dettaglio in che topolini erano usciti però dirvi dovete acquistare questa storia in questo formato non mi sentirei di consigliarvelo soprattutto per la pochezza degli extra fondamentalmente ci fosse stato un qualcosa di più mi avrebbe fatto dire ok se volete solo la storia topolino basta però questi extra valgono la pena ed è un po' un peccato avere un volume deluxe quindi anche definitivo se vogliamo di certe determinate storie che meritano effettivamente un ampio formato un maggior pregio una maggior valorizzazione da parte della casa editrice stessa e poi trovargli spogli di di extra accattivanti e avvincenti davvero davvero un peccato però la storia a mio parere potrebbe valere la pena soprattutto se non avete letto il topolino all'epoca e se conoscete l'opera originale orgoglio e pregiudizio e volete leggerla in una chiave diversa da quella letteraria e quindi vederla per l'appunto in questa veste qui da francesco dalla soffritta di camera mia è davvero tutto avete preso questo volume avete letto questa storia siete d'accordo con me non siete d'accordo con me ditemelo qui sotto nello spazio commenti qui da francesco dalla soffritta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao